Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, questa è la squadra parte del video, siamo uno di nuovo qui, ripresentatevi Gabriele Ace E segui parte Ah, ci stai magando Grazie per averlo fermato nel momento cruciale Io ti dico che ho 6.700 punti, quindi lo prendo assolutamente di alcuni Ok, vai Io ti dico che ho una macchina dove ho una pistolina Io voglio la mia macchina Al prossimo round sa che mi fa bene, anche se ci fanno pure stranze Se ci fanno un culo a questo e vi fai fare un video di 10 minuti dopo di mezz'ora Non ti dico 10 minuti, magari 10 minuti No, ma perché? Se ma stanno fa schifo perché si sposta da sola Le fa girare i bolsi Doppia? Sto soffermata benissimo Giù dove andando? Eh, Ace Mi confondo anche i nomi No, è il capo di città Ma sono le città Ace, postati Ah, sono le città Ma ce ne erano due Se mi copri non rianimo io Dipende cose, attendi perché questi sono un'altra parte della faccia E sono quasi Non nemmeno so cosa è morto, però Io ho rischiato E mi sono solo che non sono la bellissima situazione E potrei trovare meglio Fossi in te andrei a prenderti la punta Chi è stato con dire che ho preso Perché te ne muori? Io lo devo prendermi non in una decina Gaigan Che cos'è? Eh, ma ti scherzi Noi è una bestia So però è un piacere che colpi fissi Ho aperto la porta di che sono questo E' un coltello palistico Ho aperto la porta Ho appena preso i tirabini Ma tu non mi puoi lasciare senza i MPC Il prossimo anno Non ci dico Adesso non andare a dare rimanate a cazzo No, però, tale da me sa che È in molte situazioni E io non ho più Munizioni Come non ho più munizioni? Ready? Bene Devo cambiare armi? Eh, mi sa C'è Queste sono per poter Così Alla prossima Entriamo tutti dentro L'edificio Mi volevo prendermi un MPC In senso MPC Io non vado avanti Wow Somma Sembra una grande anno L'edificio In realtà Ha fatto caracca Cazzo C'è Entriatemi su Se non vogliamo Lo dire Come deve Mende C'è Ficato perché sei morto Come sta la gaga Mendeficente Perché sono Non finito Sulla nava Con due zombie Dietro Che mi davano le manette C'è un po' di casino Qua fuori Appena appena Proprio Sono morto Non c'è Che Ma che scherzate Ah Gioca Tra giocato 2100 Punto Con il piano L'MPC C'è 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 La Francia La Bomba Inutile C'è 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 Tranquillo Tranquillo Non so Un po' Eh Vedi Fossi Te Non capire Tanto Lì Eh Ah C'è 3 Si C'è 2009 C'è Io Non Tutti C'è Ficato Quella Che c'è Non Fare Le cazzate Non Fare Le cazzate Sì Ho Ficato Cazzo Che Ho Diretto Non Fare Le cazzate Perché Innanzitutto Vuole Le cazzate Perché Se Dei Morti Tutti Ho Fatto Tanti Un Uccisione Vuole Le Fatte De Salta Hace 22 Asi Se Se Dicastroso Che Divina C'era Come Fatta No Ma Tu Devi Capire Che Chi Pensato Se Il Terzo Tentativo Tentativo Neanche Dobbiamo Arrivare Io Pensavo Almeno Dieci Ma Preghia Come Fatto A morire Saranno Perché C'era Proprio Sub Di La Lava Dai Ragazzi Già Dove Tentativi Ce la Faremo Se Prima Ci Siamo Fottuti Adesso Adesso Tutto Spare I Telefili Parte Tutto Da Chiedo Prendere Pc5 Nasce Che Siamo No Siamo Di Nuovo L'S DC Parle Sdc Do La Pedene Siete Di Farza Non Con Me Da Solo Intendo La Cassa Sta qua A posto Almeno Sei contento Visto La Zombina Che Siamo No Zombino L'opipunti Già L'opipilli Ma che Inutili Sono Sennò Di Persone Pagano Zombino Che La Mio Zombino Chi C'è 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 E poi Dopo Vi lamentate Perché Dove E L'ultimo Che L'yevo Uccide O Acerte Ricordi Oggi Mi xd xd io so sto spiegando o punti su buonanotte le proprie pochi di solitaria giocatori bianchi appena passato Giorno Ciccacapela, in nome di Dio. Questa volta ci vuole rispenti. Acce non vorrei registrare la telefonata in diretta, spero. Lui risponde al telefono! Vabbè, intanto vi possiamo prenderci una pausa direttamente nel video, da pezzenti. Io ti direi che non è più sensace perché non vuole niente. No, no. Facciamoli i pietosi stavolta. Stiamo giocatando. Dai, Danno, giocatatico. Quello bello sta zitto, mantiene il suo voto di silenzio. Ness sta giocando. Allora, non parla perché non ci vuole mangiare di capire. Adesso ho spinto il telefono. Lo so se ti ha giocato all'acqua, non lo so. Incredibile, Danno. Le botte sulla porta! Animale! Direi che dopo aver visto di nuovo la custodia Keep Calm and Kill Zombie, perché questa custodia va vista. che non è del mio telefono, però è in tema. Ace, quando vuoi. Scusate, ma quando chiamo... No, io non sarò nudo perché... Devo spiegare che c'è lo sta cover, poi vedi. Hai capito? Adesso lui ci racconterà... Ace, sei sempre sulla lava. Incredibile! No, è morto sulla lava! Si è salvato la figura di merda. Adesso tu ci dirai, il profilo persegno tutte le settimane è quello che hai avuto da fare. Che? Allora... Eh, non è che si è riguardo a tutti. Allora, non ho già fatto ci vuole dire perché. Non c'è che sia morto. Ma perché ti devi, ti devi far parlare di strano, no? E giustamente! Si vuoi un animale. Ah, c'è di animale un po' di... Sono un zombie che mi sta spana qua. Ah, c'è di animale un po' di... Oh, a meno mi s'fatto un po' di po'. Ciao zombie! Ah, la bomberina, la... La bomberina, la... La bomberina, dici? La bomberina, si? A proposito, si o violenta una zumbina e... Cosa? Se violenta una zumbina, è nepprofinia. Cioè, non so se si sta con me che ti romano, cioè... Oh, all'istante! All'istante! Oh, all'istante al terzo round! È una cosa più inudere che potesse capitare. Ti più, ma ci sei morto! Noi, all'istante, prenderla! Eh, ma io l'ho pensato sul Capù. Noi, al Capù! Noi, al Capù! Noi, al Capù! Stiamo registrando. Ma io, al Capù! Noi, al Capù! e dopo queste integrazioni che hanno tutti una volta nella vita Danilo involontariamente si è presentato E' vero Dando se mi facevi cadere la videocamera di rimbalzo acido e venivo lì a minatte Acido Scusa Ma scusate Ma a capo ti va bene la sensibilità che c'è Io sono molto molto Beh la capiamo la sensibilità Oh così si gioca A14 Come i masochisti E' un po' la pistolina E di te Non hai un altro caso Vuol dire che è una sensibilità da masochisti Non so Mi conviene Però così Se ne fa abitudine Ah infatti io lo prendo con il 25 C'è perché anche c'è i zombie che percebo Io c'è i zombie che mi sorgono in faccia Ho un bel fucilato Mi piace Aiuto Ah ci sono 6 nella cacca Scappa Ah troppo tardi sono circondato Fai per via Fai via Fai via ну Vi due Fai tempo Con il cerchio Pompati del m16 non è vero del m14 sì 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 il sacco va bene io dobbiamo che poi la visione sono tolta sta cosa adesso quando c'è pieno caldo di caricare le munizioni da spagare c'è come vuoi l'ammazzata e io vado a prendermi era l'ultimo tecato solo per l'altro poi apri l'altro caso infatti che ora abbiamo una cani dalle mp5 credibile perché perché vabbè col fucile a pompa ce l'ho visto di fare a questo punto sai che faccio scusatemi diminuisco metà a 10 perchè il canizzo non parla per tutto questo a cd è molto un rischio sotto il viso boom bello dai con questo dovevamo passare i cani boom boom ah se sei incredibile è brutto che non si può che anima perché i cani muovi come niente e noi lo impari a mettere adesso è più da più gusto è ragionevole adesso eh già c'è piccato se sono cordiali bene che ti prendi questi prendi questi scusa 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 è tutta paura posto sono quasi morti tutta paura posto tutta paura posto non possiamo morire adesso tutta paura posto no incredibile ma quanto è schifo è possibile che lo servono vivi con i cani? è possibile che lo servono vivi con i cani? non ho capito a te come fai a morire con i cani? ma non mettere i brivi? se cambiamo mappa per l'ultima facciamo fattoria facciamo quella che ti dico io è senza bibite però eh io non ho mai usato le bibite è senza cani questa è la principale mappa torniamo sul deposito esattamente sopravvivenza senza cani volendoli premetti i cani eh volendoli premetti i cani però le difficoltà facili no ah vabbè l'abitudine no dai è evidente difficoltà facile eh chiedendo se siamo morti va bene ma perché c'è lui ma ah sì quel che si muove sempre che te mori per primo se la mentre là è arrivato quello che è morto al primo round io sono un po' aspetta io sono morto al primo round al primo round non ti cambia la partita al primo round io ne ho volto da schiata ti cambia la vita però non pensi proprio se la mia città è un'altra cosa ah sì volevi fare una controvola ma si deve mai sapere mi sento indegno mi sento indegno l'estra modalità che c'è una mica che è arrivata la caldo 32 subgrupi vabbè che la sola sì vabbè che lì c'è i soldi e la banca che li prendi poi è più sempre un altro 32 è sempre le tasse che facciano c'è il massimo tutto quanto fatto 22 amassi assoluto c'è voi già iniziato a lavorare no si riguarda i giorni certo tu stasci vuoi fare con me mica t'hanno fatto niente vogliono solo violentarti poi lo stesso mi raccontato in altri video quindi neanche a di video ah ci sei un cechinazzo perché ah lo ci sono ti ho fatto ti hai fatto questa mappa certo non so come sai dove andare esattamente esce quel piccoletto stretto c'è esce prendi la cassa e ti campi come una bestia ma sai dove no perché io non campo allora se voglio arriva lontano 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 quella qua è dove ho fatto più di 20 più di 21 sono sono arrivato a 26 mi sembra però quelle campi non le conto mi raccomando la corda su assurdo quelli che hai quelle campi non le conto cioè ma per raccontarli soffermos vuoi morire ah cioè perché mi sei davanti perché lì devo all'amicizia l'amicizia scusa non vuoi fare anche intrasi per me di più da dai sei un lato ah se sei un lato gli esparmi da 5 metri basta dire non si muore perché c'è un l'intrigato ok anche da andato no per 92 direi anche eh è prossimo faccio ma mi aspetta che c'è un'ostanza a punto tutti che pagherà eh vi faccio vedere non so bene a qua ce l'avevo un piccino posso prendere un piccino mi sembra essere soddisfatto di me stesso perché stiamo facendo veramente o voi prendete i fucili perché vi dovrò avete dopo dove fucili che serve dobbiamo andare c'è il senso l'epicino si può prenderla ovvio la rete rende prendi sempre per le munizioni su città ce lo sa tutto perché vado vado ok direi che possiamo quando sei volto quando sei volto si è un po' questo è nemmo di perché basta che fa così e ti ammazzò acce via coppia acce coppia un gongio e morì quelli più difficili che quelli con i demoni questi qua poi tranquillamente ok direi che si può uscire possiamo tutti l'epicino il mio punto allora non c'è l'armi io mi conto l'ampicino armi o vedete esercizi velocemente però qua vedete e vedete dove sto io qua che religione si stengono in questo di corretto passare capito però non morite passando a si perchè diventi no, hai capito ti dai campi di qua no ho fatto il popolo 27 poi mi riuscire a salta sulla bifondi io non ne avrei anche conoscenza di questo posto no io ok arriviamo al 10 e poi ci succhia eccoli da città qua con cecchire bello qua qua che stupenda con cecchire ho avuto più punti quando io prendo il pezzo non mi con ti che è one time e se io andassi fuori e venire gruppo no non sono come se dopo crepi scusa questo qua davanti io 용no mi ha me iniziato la tua neuzione tanto schiatti 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 ok si schiattano proprio queste munizioni eh tu non le munizioni santo fa più me facendo i punti possibile adesso torniamo la testo di stanchile chi bello ragazzo dai cimici c'è c'è la prova faccio la città da agliarci spiega non la prende io non c'è dove la monta asima cofaglio di una cosa di me sarei qua per terra dobbiamo camperissimo faccio se si vede non mi spiega ma c'è quella rimbalza ma anche di un po che è la scossa ragione io non me la sento di capire devo far vedere un po d'azione c'è da tu vuoi tranquilli sono nella merda e altri quali che stasera pure se questa non è non c'è posso credere incredibile poi cosa prendere per il culo ok adesso posso fare la città di più adesso è capitata testi al 2 ho sovrto del più grande lo va a considerare credibile che mi sarei aiuto cosa dice che se non capo di non c'è molto stile io sono testato a capo si senta per destra ma poi cannelli nella pagina se i campi in grande stasi manda io ci posso che è incredibile o e chiacchia insulta c'è una cosa di bene poi non parlo più e vedi come di qualcuno ma facciamo una cosa da adesso in poi se muovi la premessa staccare la stanza ci stai acci si muovi anche te io cosa devo fare rianimaloo è rimasto c'è lista di kill no aiaaa chi hai adesso è fulmine di pegasus galil se qualcuno mi copia l'altro ti asci intanto vai la bella incredibile bella dai così si fa incredibile come la camperate tranquillamente te la camper dai devo cambiare la masso acce non è questo il momento fammi una cosa acce te campi si si campi la camper questa deve essere buona partita c'è la buona fa un po' schifo chi è bella acce prendi negali perché se scappa al cecchino quel mondo e qui di round eh ma di che dai qua fino al quindicesimo almeno d'aria perchè ci muoce chiama laci i zombie iniziano arriva pure qua capito scappato le sole dalla lao c'è in quel senso salvo quello sopra quindi sarebbe accanto posto adesso mi porto il gruppone ma anche no se perché aria non uccidere che incredibile mai 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 i primi singoli gli uccidio col balistico non so grazie adesso gli sciotti col balistico sì sì che è che mi vado avanti nessuno c'è nessuno non spiegare chi ha rispevuto se non c'è vede qui sono tre line e quindi vabbè qua quando c'è in stare uno scatafascio ti vedete se fosse questo almeno qui vuoi non prendo i doppi punti non dico incredibile che sa che quello che si mi devo cambiare l'arma ok puoi andare incredibile 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 credibile 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 se non morire se vedete la regia se vedete la regia c c no chiaccia 4.420 punti ci sono tutti stavolta comunque pericolo che adesso pericolo che adesso pericolo ho cerchi nazi stavolta 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 anche perché io stava e stavolta uno shotta più uno shotta più capito ora mi piacciono questi suoi vogliamo andare no? quando si sento suoni maligni chi è che lancia la bomba? io il treno che lancia la bomba che ne ha qualche entretica anch'io io sparate ti sparate ancora con il cerchinazzo oltre con il cerchinazzo spara quelli di lontani capito spara questo qui vicino da scena no? a poi tipo con l'altro si la fai si illudi che io non ci riesca con una pistolina e invece perché te c'è pistolina non ho sprecato lo spregherai perché non sono vicino cioè usati che non si è sprecati te lo spara qui lontano e spara tipo questi quanti fu vicino c'è stata una quattro città 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 facevai non è incredibile ma scrive st ma sono coccontate ma che fai scherzo ma credo io per fare punti città quindi non è vero non è vero ma non è vero ma è vero ma non è vero ma è vero ma non è vero ma è vero ma è vero ma è vero